Sì, sono ancora in Abruzzo. Oh, puoi capire quante cose ho fatto? Mare, montagna, cena vista mare, gite a cavallo. Oh sì, tranquillo, sto tornando, 50 minuti sono lì. Ora, io porto a posto con il bagaglio, sì. Il bagaglio? Sì, tutto a posto. Sicuro, sicuro che è tutto regolare lì dentro, sì. Sì, guardi, io ho solo i vestiti, eh. Ah, solo i vestiti, eh. Venga con me, venga. Scusi, eh, ho solo i vestiti. Venga. Franco, vieni, vieni, ne ho peccato un altro, vieni. Ma come si fa? Come si fa, dico io. Eh, pure io dico, come? Tu parti dall'Abruzzo e non ti riporti niente. Niente proprio, non ti riporti. Giovanni, non va bene. E che fa? La genginella è andata da riporti. I confetti di Sulmona, eh? Il monte Pulciano d'Abruzzo. Lo zafferano di Navelli. Le ferratelle. La pasta artigianale. Il miei della montagna. E due rosticini non ce li riportiamo a casa, eh? Eccoli qua. Eh, vai, gli rosticini. E come li cuoci? Come li cuoci? Eh, li faccio in padella. No! Con la fo? Con la fo? Con la fornacella? Ah, beh, con la fornacella, sì. Oh, grazie. Grazie. Abruzzo. Che spettacolo. Ehi. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Eh. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Grazie per la visione!